Ciao a tutti e ben ritornati nella nostra mansarda per un nuovo episodio di Gioca Giullati. Oggi ci sfideremo a Sagrada, uno dei giochi che abbiamo giocato di più in quest'estate dove ci sono i tantissimi dadi colorati e trasparenti. Come sempre tra le informazioni troverete tutti i link necessari per approfondire questo titolo della Cranio Creations e ora voi da che parte vi schiererete nel team barbuto o nel team vale? Mentre noi giochiamo giocate anche voi! A quale gioco appartiene questo puzzillo? La risposta alla fine del video. Eccoci pronti a partire con Sagrada, gioco con 90 bellissimi dadi. Come vedete ne abbiamo tolti alcuni per equilibrare il sacchetto nella partita a due giocatori. Questa è stata una regola ufficializzata anche dagli autori. Quindi dei 90 dadi noi ne useremo solo 50. Albi scopo del gioco? Scopo del gioco è quello di fare più punti vittoria rispetto a tutti quanti gli avversari. I punti vittoria saranno dati a fine della partita da un obiettivo segreto che noi abbiamo già qua, ovvero faremo punti per tutti i dadi di un colore che abbiamo in base al valore di quel colore. Non vi diciamo che colori abbiamo pescato, provate a indovinarlo voi se riuscite e a questi punti si aggiungeranno anche i punti dati da questi tre obiettivi comuni, ovvero per i set di dadi di valore tra i quattro, per le righe con colori tutti diversi e per le colonne con i numeri tutti diversi. Sfumature. Sfumature di colore. Numeri tutti diversi. Durante questa partita abbiamo anche tre attrezzi che ci saranno utili durante il gioco e man mano che li useremo poi eventualmente ve lo spiegheremo. Inizio io. Prego. Quindi pesco dadi e se ne pescano doppio dei giocatori più uno, quindi siamo in due, quattro, più uno, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Bellissimo. Tire dadi. Allora, allora, per il posizionamento iniziale bisogna partire mettendo il dadino al bordo della nostra finestra e a questo punto io prendo un bel quattro viola e la metto qua. Qua ho un bel quattro e quindi vado a coprire il mio quattro. Ok. Io invece prenderò il... Adesso toccherà due volte ad Albi. Esatto. Me lo ricorderò. Allora, io... Ma noi che dadi brutti, Valentina. Allora, colonne con i numeri e righe. Allora, io prendo il 2 verde che metto qua. Qua c'è già un 2 stampato, quindi io sono obbligato a mettere un dado di valore 2 e io scelgo di mettere il 2 verde. Poi prenderò... Adesso per il posizionamento Albi può posizionare adiacente... Esatto, tutto attorno a quello che ho appena messo. Sì. Allora, e regola aggiuntiva, non posso piazzare vicini due dadi dello stesso valore o dello stesso colore, quindi io mi sono già bruciato i due due, potrò solo due e quattro, perché mi sono già partito molto bene. Quattro che non posso mettere qua che mi chiede il 6, non posso mettere qua che mi chiede il giallo, metterò qua che era un piazzamento free. Io a questo punto prenderò un 2 di sicuro. Tutto, possiamo mettere un bel 2 giallo qua. Ok, il dado avanzato viene sul conto turni, si giocheranno 10 turni, dopodiché stabiliremo chi è il vincitore. Tutto qua, ciao e alla prossima! Ciao Teo! Guardate quanti bei 6! Allora, 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 io prenderò il 6, non blu, ma il 6 verde e lo metterò qua. Poi chiedo scusa, Vale, perché io potrei attivare uno degli attrezzi e io lo farò. Attivo questo attrezzo qua, il taglia di rotelle... no, cos'è? Tenaglia rotelle! Tenaglia rotelle, non leggo niente io da lontano. La tenaglia rotelle mi consente di... spendo uno di questi cosini qua, e io ne avevo 6 perché la mia schedina indicava 6 pallini. La tua vetrata, Albi, ma niente! La mia vetrata mi indicava che io avrò 6... gettoni... favore, favore. Comunque, con quella lì io posso prendere immediatamente due dadi, quindi ignoriamo il giro e contro giro di pesca. E io come secondo voglio il 5 giallo che voglio mettere qua. Allora... Così faccio un riga con tutti i colori diversi. Quindi adesso comunque tocca due volte a me. Tocca comunque a te due volte, sì. Allora, adesso io poi per utilizzare questo, volendo, dovrò utilizzare due dei miei gettoncini bellissimi, trasparenti, favore. Farlo adesso non ti serve a nulla. No, ma infatti non ho detto quello che fa questo, ho solo detto in caso muove l'ossassinato nella tua vetrata di una delle stazioni di colore. Vabbè, allora, io prendo il 2 rosso e lo metto qua sullo rosso. Poi tocca di nuovo a me e mi prendo il 6 e lo metto qui. Ok. E tocca a te il terzo turno. 5 dadi. 1, 2, 3, 4, 5. Solo dadi giallo. Vabbè, a me schifo schifo non fa. Cos'è l'obiettivo giallo? No, ho un giallo da piazzare. Sì. 4 e 2. Ma faccio dei tipi veramente affascinanti. Però. Pe, però. Allora, allora. 2 e 4. 2 qua in alto. Vabbè, potrei mettermi qua. Sì, bello. In gioviola. Ok, tocca a me. Io prendo 2, prima presa un 4 giallo che metto qua. Seconda presa un altro 4 giallo che metto qua. 3. E adesso ho un 4 con un giallo. Questo potrebbe diventare anche qualche 3. Allora, lì lo ribalto. 5. Un numero diventa. 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 3. Faccio così. Utilizzo questo che mi fa ribaltare il dado. Quindi ribalto questo dado che da 4 mi diventa 3 e lo metto su questo. Ok. Tocca a me. Quarto turno. Grazie. Tanto. Ogni gettone di questi qua trasparenti avanzati, ogni gettone favore, a fine partita, varrà un punticino. Va che bel tiro, va che bel tiro. Allora, io prendo il 5 rosso che metto qua giù. 4, 1, e 2, 6 o 2? 1, 1. Rosso. 6 rosso. 2, viola. 2, no, perché ce l'ho già. Ecco, quello che avrei voluto prendere io. Infatti lo sapevo. Perché allora, in colonna numeri diversi. Sì, quindi in realtà io metterò un 6 qua. Allora, il 2 viola qua non lo metto perché qua vicino c'ho il 2 e quindi mi vado a chiudere da me. Io viola qua lo potrei mettere però... Eh, facciamo così. Mettiamo questo 2 viola qua perché in colonna... Ah no, in colonna numeri. Sì. In riga colori. Ma va bene. Sfumata? No, in colonna numeri quindi lì non va bene, scusami. In colonna numeri... Sfumature. Eh, sì. Sfumature. 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 No, io faccio dei pasticci con sto gioco. Oivi! Cerco di fare tutto. No, ho vinto una volta solo. Ho vinto solo la prima partita. Quando avevamo fatto il gioco. Che lo giocavamo, tra l'altro con gente che non conoscevamo. Ho fatto anche bella figura, ma... In questo gioco vuole a lavare. Uno, due, tre, quattro, cinque. Come vedete sto già piangendo, sperando di riccirearmi. Bastardo lo tirare fortissimo nel microfono! Ok. questo era perché si stava addormentando per questo gameplay noi ogni tanto buttiamo giù qualcosa di bomba tocca a me in riga colori in colonna numeri vai tocca di nuovo a me si in riga colori in riga colori in colonna numeri allora io già sono di nuovo in una bruttissima situazione io però potrei fare così in riga numeri spendo due gettoni per usare anch'io questa qua e questo 4 trasformarlo in un 3 che metto qua così poi lì di fianco il 2 ci può stare e va bene tocca a me io mi prendo il verde metto qua sul verde 5 sesto turno sono io il primero 1,2,3 4,5 che roba che roba allora che roba madonna mia santa allora c'è un blu io lo prendo fubito perché è l'obiettivo lì c'è un buco blu sì infatti metto un 1 perché sono avanti no? se avessi obiettivo da blu vai vai allora un orostolino mi piace il viola il viola e devo metterlo qua e devo metterlo qua il viola potrei metterlo qui sì con un bel 3 mentre non c'è ancora il 1 e poi mi prendo l'1 rosso che metto proprio in colonna numeri sì in riga colori allora io viola qua già non li posso mettere quindi io dovrei mettere un viola qua nell'ultima riga se non voglio brasarmi l'obiettivo che non può essere qua potrebbe essere qua il 2 o il 6 qua no e qua il 6 allora l'obiettivo è decisi e mettiamo il 6 viola ma no mettiamo il 2 viola e lo mettiamo qua così in questa colonna io ho tutti i numeri diversi sono stato bravissimo potrebbe anche arrivare il momento in cui non riusciamo a piazzare nessun tipo di dado che abbiamo bruciato e gli spazi che rimangono vuoti sono comunque un punto negativo va bene allora il blu il blu qua no no ancora in riga colori scusa sembro sembro scemo ma sono proprio scemo no no in colonna numeri ok e in colonna numeri in riga colori quindi potrei mettere un rosso qua potrei mettere il 5 rosso qua che va bene allora adesso il blu 2 allora e adesso faccio quindi io qua dovrò mettere un 1 blu qua un 2 blu quindi pirla potrò prenderlo il 2 blu scemo il 3 blu ci devono essere fatti qua un 3 o un 6 verde tocca a me sì sto guardando che io ho già appunto molti piazzamenti molto vincolati se voglio chiaramente fare gli obiettivi a una certa 4 rossa un colore che non posso tocca a me mancano 3 turni signore e signori 3 4 5 dadi chi vincerà chi lo sa il più bello che c'è qua allora allora avevamo detto che a me serviva un 1 blu qua e un 2 blu qua il 2 blu c'è e lo piazziamo va lì riga tutta diversa allora 6 punti questi 6 punti mi posso mettere 5 punti allora tra i due c'è gli altri ah già c'è anche questo non mi vado a vedere vabbè 5 e adesso blu e verde il verde mi prendo eh che cacchio no no bene non prenderlo brava eh non mi prenderlo eh no ma non prenderlo non prenderlo lascialo a me intanto 6 2 che 3 ce l'ho faccio così così 6 1 1 4 2 1 2 non ci prende niente che pizza qua cosa fa dopo non ci prende niente come con i colori ribaltarli non mi serve beh ci sono forse quasi non è quando uno è scarso è scarso dai dai tanto se capito che prenderai quello allora io prendo il 4 eh io prendo quello che voglio e in realtà mi sto brasando un obiettivo ah però li posso ancora sempre anche ribaltare giusto? il 2 dietro c'è il 5 e che non posso pezzarlo e che non posso pezzarlo il 4 dietro c'è il 3 in colonna in colonna i numeri i numeri e allora lo faccio non mi è andata proprio ancora totalmente male perché posso spendere questi due le fanno diventare il 4 un 3 e il 3 pezzato no non posso non posso non posso non posso scusate 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 andù 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 niente allora mi devo bruciare qualcosa per forza mi devo bruciare qualcosa per forza il cervello che è già bruciato e vabbè dai via questo 4 lo metto qua bom quindi qua c'ho 2-4 e 4 punti sono persi e pazienza e pazienza e 5 quanti punti fai quando ho detto io tu avrai il blu con il biettio i 20 punti c'hai di blu giallo mi gioco non posso piazzarlo non posso piazzarlo questo qua come faccio per torno io eh brava brava c'hai proprio i gialli come obiettivo allora 10 avrai i gialli come obiettivo allora io ho girato questo era su 2 eh vabbè vabbè io manderei a monte la partita perché io sono rovinato io sono rovinato questo qua mi dice che posso spostare ignorando le restrizioni di colore sì io quindi potrei ficcare qua qualcosa che non è verde ma in realtà però devi spostare sì qualcosa che è già lì sì qualcosa che è già su però non mi serve perché in realtà mi serve verde per fare l'obiettivo e allora uno potrei ribaltare quello però lì è già andata qua mi manca il verde qua in colonna i numeri senti dai basta mettiamo il 2 verde qua e qua non ho i numeri e spendo 2 per ribaltare il 6 viola farlo diventare un 1 viola da mettere qua sto facendo schifo qua mi sono bruciato i colori qua mi sono bruciato i numeri ultimo turno eh guarda adesso mi deve uscire il 3 verde ora vedrete eccolo non è uscito è uscito il 4 ma io non ne ho più 2 per girarlo faccia trota il bellissimo 6 rosso deve stare lì c'è un 3 in tavola no verde c'è il 6 o il 4 piazziamo il 6 verde che è l'unico piazzamento che posso fare allora facciamo così porca puzzola eh me lo odio questo gioco ora uno non ci sta allora aspetta in realtà qua cosa mi viene con verde ho poi fatto tutti i piazzamenti giusti perché conoscendomi allora allora attenzione sfigato dai 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 sfigatona sta fermo dai che perdi i punti ogni buco che rimarrà nella vetrata sarà meno un punto alla fine della partita questo qua a me sa qual era sai che non piace niente spostare qualcosa di colore infatti questo fammi spiegare non vedo che cosa era in quel buco qua un 1 e qua un bianco ah ok però tutti i colori attorno mi sembra direbbe un viola quindi potrei spostare un viola un 3 viola e però la cosa mi ritrovo aspetta ma guarda io ho compulso il regolamento un attimo perché quello mi obbliga a muovere e guarda nella piazzata dei giocatori e utilizzare non sono 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 no no qua il gioco in solitaria niente non lo non c'è non è specificato è la restrizione di colore sì però appunto cioè tu puoi fare un movimento sì cioè anche se non lo metti su una carta hai capito? mettere l'uno qui l'uno qui non c'era mai capitato questo dubbio oh vale eh lo so porta pazienza hai parlato tutto il tempo ho stanzito due secondi che hai ragione vabbè io sposto un muro no? sì eh sì cazzo il 4 che non posso mettere controlleremo su il 4 che non posso mettere il è un topic di dubbi hai fatto un tiro veramente del cacchio Valentina vabbè allora facciamo così tanto poi il 6 lì non lo posso mettere il 2 non lo posso mettere eh posso fare un cacchio posso fare al massimo dai allora spostiamo l'uno qui non puoi due rosse vicine ho dato questo no ma questo è che tu ignori il colore che c'è sotto tutte le altre regole sono sempre quelle e niente scusate muovo in qualsiasi dato nella tua vetrata ignorando le restrizioni di colore di quello che c'è sotto però tutte le altre regole di piazzamento rimangono quindi allora facciamo che non posso mettere nessuno quindi togliamo e io tanto non posso mettere niente questo no in realtà non lo togli rimane lì e tu dici semplicemente passo passo poi tocca di nuovo a te passo tocca a me passo fine vedete ci siamo incartati nell'ultimissimo piazzamento perché così è e adesso andiamo a contare i punti però scusa se non è completa ovviamente non conta e no certo boom andiamo a contare i punti prendiamo i mini token segna punti giriamo la plancia a contaturni e siamo qua a zero allora prima cosa coppie di tre e quattro o per carità io non ho messo ah no ne ho uno di tre ho messo un unico tre io quindi ho due punti io ho tre coppie e quindi sono due quattro sei punti per te io me l'ero completamente scordata righe con i colori diversi questa no questa sì questa sì questa no quindi dodici punti per me quattro due due anch'io otto quindi uno due tre quattro cinque sei sette e dove ero otto uno due tre quattro cinque sei sette otto ok e gettoni avanzati uno uno anche per me buchi vuoti nella vetrata due uno e quindi ce la giochiamo con l'obiettivo segreto perché erano i gialli vero i blu per me erano i rossi e io con i rossi ho fatto diciotto vetti eh vai 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 allora diciotto son trenta son quaranta venti quarantacinque e bene e vedrete quindi che gioco orribile sia questa sograda l'unica cosa bella di questo gioco come vedete è questa plancetta che si può fare così e tirare a tutta forza vedi una cassa pulca perfetta ti dà l'impazzione in cima poi li raccogli li raccoglieremo allora e li andremo a raccogliere passi l'aspirapolvere e li raccogli e ora vai a stirare donna dobbiamo andare a prendere i bambini dobbiamo andare a prendere i bambini che sono dalla nonna e va bene questa è la ora questo gioco sceno di sagrada va bene tant'è belli hai i dati belli tutto in stirarli addosso ciao ecco svelato l'arcano se volete mettervi alla prova con altri quiz ludici il nostro forum vi aspetta ciao ciao Grazie a tutti.